La Biennale di Venezia è aperta ufficialmente al pubblico sabato 20 aprile, anche se i padiglioni di molti paesi erano già stati aperti. Per la sessantesima edizione della Biennale sono arrivati più di 300 artisti da 88 paesi, tra i quali hanno partecipato per la prima volta Benin, Timor-Est, Etiopia e Tanzania. Anche quest'anno la Biennale, una delle più grandi e famose mostre d'arte del mondo, non è esente dalle guerre in corso. La Russia manca all'evento già per la seconda volta. Il padiglione russo, per decisione di Mosca, è utilizzato dall'amica Bolivia. Mentre nei giorni prima dell'apertura, un raduno pro-palestinese davanti al padiglione israeliano ha raccolto centinaia di persone. La protesta si è svolta sotto strette misure di sicurezza. Il padiglione israeliano, tuttavia, è chiuso in segno di protesta contro la guerra. I curatori hanno deciso che non ci saranno esibizioni fino al raggiungimento del cessato il fuoco e alla liberazione degli ostaggi a Gaza. Il padiglione potrebbe riaprire perché la Biennale finirà a novembre.